Musica Lo show cooking di oggi, beh, non poteva non avere come elemento dominante la pizza e io ho il piacere di presentare Salvatore Leoniello, campione del mondo del 2014 Buongiorno Tu oggi spiegherai ai nostri amici come si fa la pizza in casa Oggi insegnerò a fare una pizza napoletana in casa Napoletana, assolutamente Quindi, Salvatore, tu sei qui a Casa Sanremo per raccontare quelle che sono le curiosità che stanno attorno a questo mestiere E quindi sei felice di questo Sì, sì, sì Oggi spiegheremo anche alcuni dettagli che sbagliano a casa le gasalinghe il troppo lievito all'interno dell'impasto, la troppa poca lievitazione e mentre che faccio lo show cooking insegnerò un po' come avere un prodotto digeribile nonostante non si va in pizzeria E soprattutto come fa la pizza a conquistare i palati di tutto il mondo Sì Grazie Salvatore È stato un piacere, grazie mille Grazie, grazie, buon lavoro Grazie Buongiorno a tutti Ok, iniziamo a fare la nostra pizza napoletana Come si fa una buona pizza napoletana? Gli ingredienti sono semplici Utilizzare la farina di Napoli, ovvero in questo caso Caputo Una farina con una forza minore Non dobbiamo prendere le farine, anche quelle dal supermercato Come la Manitoba, che è una farina molto forte Cerchiamo di prendere sempre delle farine più deboli In modo che per 10-12 ore di levitazione abbiamo comunque un prodotto digeribile In questo caso abbiamo la Madia Andiamo ad inserire subito la farina Un chilo in questo caso E andiamo A inserire il lievito Su un chilo di farina Aggiungiamo 3 grammi di lievito di birra Io di solito utilizzo il lievito Lievito fresco Mescoliamo bene Una volta che abbiamo mescolato bene il lievito e la farina Andiamo ad aggiungere l'acqua Quando acqua occorre per avere un impasto liscio, morbido e omogeneo 650 grammi 650 grammi d'acqua all'interno di un chilo di farina Due grammi di lievito E dopo il sale Il sale lo mettiamo alla fine Gli ultimi due minuti Il sale su un chilo di farina Ne inseriamo 25 grammi Aggiungiamo la nostra acqua Non l'aggiungiamo tutta in una sola volta Aggiungiamo sempre poco alla volta E mescoliamo Iniziamo a mescolare E ogni quavolta che vediamo che l'impasto è duretto Andiamo ad aggiungere la restante d'acqua Una volta che abbiamo messo tutta l'acqua Possiamo andare ad aggiungere il sale Il segreto non è solo fare l'impasto Perché a casa tutti quanti Ora chi mette di meno O chi mette di più di lievito Il vero segreto per avere un impasto Altamente digeribile È la lunga lievitazione Ma anche l'appretto Cioè quando faccio le palline Ecco, adesso aggiungo il sale E incomincio ad impastare Però nel frattempo Vi spiego quest'altro segreto Una volta che abbiamo impastato il tutto Dobbiamo andare a mettere la nostra massa Cioè il nostro impasto Bello compatto Senza fare le palline In una vasca Per almeno quattro ore Io di solito mi trovo sempre A parlare con le casalinghe Perché sono clienti della nostra pizzeria E mi dicono Salvatore ma io in quattro ore faccio la pizza Allora L'impasto ha degli zuccheri Che sono complessi Gli zuccheri si devono scomporre Devono diventare semplici Perché quando beviamo dopo una pizza Che per noi è molto pesante Pensiamo alla prima cosa Subito al lievito Il lievito a 60 gradi muore Quello che a noi Al nostro organismo Ci fa bere Non è altro Che gli zuccheri Ancora Complessi Per questo Bevendo sempre acqua Andiamo poi a digerirle Dopo tante ore Perché andiamo a saccarificare Ciò che era complesso Per questo Le ore di levitazione Che occorrono a una farina Sono ben precise Una volta che noi facciamo l'impasto Andiamo a inserire un altro po' di farina Una volta che l'abbiamo quasi completato Andiamo a inserire un po' di farina Sull'apposito banco Prendiamo il nostro impasto E lo mettiamo sopra Togliamo la nostra matia E andiamo a impastare Così Vedete? Avere un impasto a massa Per quattro ore Fa in modo che accumuli Più aree all'interno Quando andiamo a fare le palline Dopo le quattro ore Andiamo a incorporare aree all'interno E quando andiamo a infornare Dopo le altre sei ore Vediamo dei buchini all'interno del cornicione I cosiddetti alveoli Quello è un sinonimo di un impasto digeribile Lavorato in un certo modo Lavorato con professionalità Perché anche le casalinghe Quando si divertono a fare gli impasti Non lo devono fare per caso Ma devono avere la consapevolezza Di avere un prodotto digeribile Il forno sta alle spalle Qui non abbiamo avuto la possibilità di mettere il forno Ci stanno facendo la nostra pizza Di questo impasto Per capire un po' come viene Dopo le dodici ore Adesso Mattia va a prendere la pizza Di là che ho preparato Così gliela facciamo vedere Ecco l'impasto L'impasto si deve presentare così Liscio, omogeneo e morbido Questo impasto come sta? Vedete questa pagnotta? Come sta? L'andiamo a mettere Di nuovo nella matia O in una ciotola E attenzione Non è che dobbiamo avere la matia a casa Se non abbiamo la matia Non possiamo impastare Non è così Prendiamo una ciotola La impellicoliamo E aspettiamo a temperatura ambiente 4 ore Dopo le 4 ore Facciamo dei panetti Come si fanno i panetti? I panetti è facile Fare dei panetti poi dipende Anche il ruoto che avete a casa Quanti centimetri Il diametro Quando è grande Se è 25 centimetri di diametro Va bene anche una pallina Di 250 grammi Come si fa la pallina? Una volta che andiamo A spezzare le palline Vedete? L'impasto è facile Basta Portare tutto al centro E chiudere Vedete? Così Ci andiamo A sporcare Le mani di farina E giriamo Questa è la pallina Anche la pallina Come l'impasto In massa Deve essere liscio È omogeneo Una volta che abbiamo fatto Tutte le palline Le andiamo a mettere In un recipiente In modo che aspettiamo Le altre 8-10 ore Di lievitazione Per chi non ha tempo E dice Senti ma io se voglio mangiare Una pizza A mezzogiorno Posso mai svegliarmi Alle 6 del mattino No Anche le 10 di sera Alle 10 Alle 9 di sera Si fa l'impasto Si mantiene in massa Alle 9 del mattino Si fanno delle palline Automaticamente Dobbiamo sempre Diminuire il lievito In eccesso Perché la quantità Di lievito Su 2 grammi e mezzo 3 grammi di lievito A chilo di farina L'impasto è pronto Dopo 8 ore Se vogliamo Che il nostro impasto È pronto Dopo 12 14 16 ore Ancora più digeribile Il prodotto Andiamo a diminuire Il lievito E aumentare la massa Alle 9 del mattino Facciamo I cosiddetti Panetti Da 250 grammi E a mezzogiorno Possiamo infornare La nostra pizza A casa sicuramente A casa sicuramente Abbiamo un forno Elettrico E sicuramente I forni elettrici Da casa Non arrivano Oltre i 180 gradi Massimo 200 Per questo La quantità di acqua Elevata Cioè 650 grammi D'acqua Su un chilo Di farina Portano a non avere Un disco Di pasta Dopo cotto Che lo puoi buttare Come se fosse Una mattonella Allora la tant'acqua Si riesce ad asciugare E in 6 minuti È pronta la pizza Ed è un impasto Croccante Ma fragrante Che è importante Perché l'impasto Non deve essere Troppo croccante Soprattutto quando si parla Poi della pizza Napoletana Nonostante abbiamo Un forno elettrico Da casa Riusciamo ad avere Un ottimo prodotto Una volta che abbiamo Fatto la pallina Che vi ho fatto vedere Dopo le 4-5-6 ore Ecco Come si presenta Il panetto Vedete Un po' sceso Lievitato Al punto giusto Per andarlo a stendere Come si stende Una pizza napoletana Cioè Che poi è differente Da una pizza in teglia O una pizza L'impasto napoletano Ha delle caratteristiche Imprecise Ve le faccio vedere Però a casa Poi ognuno Ha la sua modalità L'impasto va Messo in farina E la pizza In generale Va schiacciato Dal centro Verso il cornicione Si gira Di nuovo Lo stesso procedimento Dall'altra parte Per avere una pizza Omogenea Dal centro Verso i bordi Si prende La pizza Con la mano destra Si passa Con la sinistra E si danno Dei schiaffetti E quello è lo schiaffo Alla napoletana Che ce l'abbiamo Noi proprio Nel sangue Cioè noi lavoriamo così Prendiamo la pizza E la stendiamo In questo modo A casa Sicuramente Potete anche Stenderla normale Sul banco Prenderla Appoggiarla Nella teglia E cuocere A 180 gradi Il risultato Sarà sempre così Ma con una croccantezza In più Perché una croccantezza In più Perché in questo caso Abbiamo infornato Nel Moretti Forni La nostra pizza A 450 gradi L'evento Dobbiamo dimostrare La nostra napoletanità E dobbiamo portare La nostra pizza A casa sicuramente Sarà buona Ma non di questo livello Ma solo per una caratteristica Del forno Abbiamo utilizzato Come pomodoro Il mio pomodoro Un pomodoro Territoriale La rosina Tra l'altro C'è anche La mia brutta faccia Sopra E il fiordilatte Il fiordilatte Deve essere Asciutto Ma non troppo Cioè E soprattutto Deve filare La mozzarella Sulla pizza Deve filare Spero che La ricetta E' stata Ben spiegata E soprattutto Che ne fate Buon uso Voi a casa Grazie mille Grazie 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 Grazie